Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Breve video flash, in questo video vediamo come visionare in anteprima il nuovo importo lordo delle pensioni sul sito IMSS per quanto riguarda gli aumenti di dicembre, ovvero un nuovo importo adeguato all'8,1% anziché al 7,3%. Attenzione, in questo importo non sono presenti gli arretrati di tutto l'anno di cui abbiamo parlato dettagliatamente nei video precedenti. Vediamo tutto insieme nel breve video che segue. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Come dicevamo, vediamo subito come visionare in anteprima il nuovo importo lordo delle pensioni sul sito IMSS per quanto riguarda lo 0,8% di aumento in arrivo a dicembre. Per vedere a quanto ammonta il nuovo importo aggiornato basterà accedere al sito dell'IMS, poi scaricare il modello OBIS-M che man mano si sta aggiornando a tutti i pensionati nei fascicoli previdenziali. Grazie a questo modulo diversi pensionati stanno già riuscendo a visualizzare il nuovo importo e la tredicesima scoprendo di quanto è salita la pensione in anteprima rispetto agli scorsi mesi. Niente panico per chi non riesce a scaricare il modello OBIS-M. Come detto alcuni riescono a scaricarlo e alcuni no. IMSS sta caricando i vari modelli man mano che passano le ore. Io attraverso un cedolino che ho a disposizione sono riuscito a scaricarlo correttamente.